In questa indagine che riguarda reati importanti e gravi abbiamo avuto la possibilità, grazie all'istituzione Eurojust, al membro italiano, al dottor Filippo Spiezzi, ai membri di altri strati che hanno collaborato con le indagini, abbiamo avuto la possibilità di scambiare immediatamente le notizie, reciprocamente, di organizzare le indagini e poi pervenendo gli arresti di cui si sa. Ora, questo è un modello che io personalmente, ma non so io, i magistrati italiani perseguono da tempo e realizzano per quello che gli è possibile, ma che non si attua in altri campi, per esempio nel campo del terrorismo. Non è ancora possibile parlare di una cooperazione che funzioni immediatamente, con scambio reciproco di notizie, abbiamo sì delle differenze ordinamentali tra stati europei, non in tutti gli stati, per esempio il pubblico ministero conduce l'indagine o è indipendente e ha l'obbligatorietà dell'azione penale, ma qui stiamo parlando di altro. Il terrorismo deve essere, come dire, aggredito uniformemente. Si discuterà da domani, credo a Bruxelles, la proposta di direttiva europea contro il terrorismo. Mi piacerebbe che oltre a bei principi vi fossero anche delle affermazioni che obbligano gli stati a lavorare insieme subito. Troppo spesso in Europa si privilegia l'azione attraverso i servizi di informazione, che sono importantissimi nei loro compiti, ma sono compiti di prevenzione. Noi in Italia abbiamo le agenzie che fanno un eccellente lavoro, ma le agenzie di informazione devono poi passare notizie di reato alla polizia, che la passa ai magistrati. E' così, come a mio avviso, un po' eccessiva la fiducia che in Europa si ripone sulla raccolta di milioni di dati che sostanzialmente non servono a niente.